La stagione venatoria 2013-2014 ha preso il via. Più di 8.500 e cacciatori della provincia di Frosinone che dalle prime ore della mattinata si sono diretti nelle campagne e nei boschi ciociari per cacciare solo alcune specie di uccelli. Gli appassionati della caccia al cinghiale dovranno attendere ancora qualche settimana. Da quattro troppe dovrebbe partire, non è ancora un dato ufficiale, la caccia al cinghiale che è una caccia che interessa tantissimi cacciatori della nostra provincia. Sono tantissime le specie da rispettare, i cacciatori le conoscono bene, altrimenti non potrebbero andare a caccia perché l'esame per la licenza di caccia è molto severo. Soprattutto rispettiamo quello che è un patrimonio di tutti quanti noi perché sparare ad esempio a un falco, sparare a un aquile, ne abbiamo poche ma ci sono, sparare in generale ai grandi rapaci o ai rapaci notturni o sparare ad esempio a dei grandi ongulati come il cervo, come il capriolo, non serve a nulla. Depauperiamo il nostro patrimonio ed è un danno per tutta la collettività. In queste prime ore di caccia la polizia provinciale non ha registrato problemi ma gli agenti continueranno a vigilare sul buon rispetto delle norme. Molte le raccomandazioni rivolte a chi proprio in questo periodo si addentra nei boschi al fine di evitare incidenti. Attenzione, noi diamo un piccolo consiglio per chi va a raccogliere funghi, chi va a raccogliere fragole e così via. Portate con voi un indumento ad alta visibilità, il famoso giubbetto che abbiamo in tutte le macchine, lo indossiamo nel bosco e siamo più visibili per tutti quanti.